A tutti buonasera, il tempo di domani sarà ben soleggiato su tutta la regione con solo qualche velatura in transito. All'alba brinate estese ma in giornata temperature massime in lieve aumento sulla pianura previste da 11 a 14 grade. In montagna a zero termico in rialzo fino a circa 2000 metri.